allora nadia lo dico appena comincio purtroppo non so per quale motivo ma non mi si parano innanzi dei commenti soprattutto i tuoi molti dei tuoi ogni volta che c'è un link mi viene oscurato nel senso che mi arriva la notifica io tra le notifiche della mia mail vedo vedo che tu hai commentato leggo una parte del commento seguo il link quindi arrivo su youtube ma non ci sei non c'è il commento non so come ne potremmo mai venire a capo ma spiace comunque è successo anche con nei tuoi commenti dove non inserivi allegavi dei link quindi non so cosa dirti ma mi sta succedendo con te mi è successo con una ragazza fatta fammi un po pensare che non mi ricordo come si chiama quindi è inutile che vado a dire cose che poi magari le persone soffrendo ma no già vabbè insomma niente è così detto questo così almeno lo sanno anche altri però le diciamo che a parte che mi arrivano tutti di tutte le notifiche dei mostri con il link attenzione quando vedete nomi strani puntati ecco lì poi va arrivano arrivata dei siti porno fate molta attenzione non aprite link dei commenti se non leggete un nome di un canale che conoscete ecco perché sono dei trolls così dicono ma me ne toccano tanti eh io li banno tutti uno per uno e amen ecco allora arriviamo a leggo per voi leggo per voi dal l'ho chiamato l'ho chiamato manuale un vocale fa due vocali fa no lui è il mio dizionario dizionarione vedete zanichelli che secondo me andrebbe ormai più che aggiornato ecco perché ancora c'è il prezzo al prezzo in euro mi fa ridere questa cosa è una cosa storica vedete aspettate vedete qua ha il prezzo in euro e poi la conversione in lire pensate un po quando noi si diceva che no ma no ma figurati se mille lì nel 2 euro un euro se farà come nel 2000 avete notato tale e quale è proprio quella conversione che si è mantenuta nei prezzi faccio sempre la conversione quando acquisto le cose no quindi tempo fa tipo una confezione di sedano in un supermercato noto di quelle già incelofanate perché a volte lì si trova sfuso e però te lo devi prendere tutto interno è che puoi staccarti le cose le coste volte parate si trovano i pacchettini da brodo no quelli dove trovate il sedano il prezzemolo la cipolla e le carote un tot prezzo sempre uguale peso sempre identico ma qui cacchierola ci riesco una volta avevo preso uno di questi sedani con intorno il cellofan c'era un prezzo e c'era un peso io lo tocco non era vecchio non c'era muffa quindi era stato pesato da poco lo peso lo soppeso vado su c'era il prezzo già stampigliato dicono qualcosa non mi quadra ma comunque era una cifra esorbitante vado lo peso e saranno stati 300 grammi di meno chiamo il responsabile della reparto ortofrutta non so mi pare due anni fa scusi ma qui il peso non corrisponde è ma è soggetto a calo peso 300 grammi da quanto sta qua scusi a sei mesi qui avete qui ma avrà magari confuso con un altro pacchetto ma non si può vendere un prodotto con 300 grammi di meno neanche se è soggetto a calo peso è un prodotto fresco e santo cielo celito lindo va bene detto questo torno dalle conversioni alle alcami ancora vigili alle scatole no io le faccio sempre no 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 e no ma adesso c'è l'euro no no io converto in lire e dico no questo prezzo non esiste mi rifiuto di comprare frutta ortaggi quando arrivano dei prezzi non dopo grandinate poi soprattutto quelli che vengono dalle serre ma anche no ecco preferisco la mia frutta rola quello che c'è c'è quello che non c'è ne faccio a meno e prendiamo ortaggi di stagione sta pretesa di avere i pepeon sarebbe i peperoni la melanzana non me la ricordo come si dice in dialetto a volte mi viene in mente la melanzana la melanzana non mi ricordo le pesche perseghe che poi l'erba persega è un'altra cosa non so se è la salvia l'erba persega non me lo ricordo più cosa ho fatto di queste reminiscenze queste 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 sollevamenti dal basso della memoria dico un po due anni chissà come sarò va bene allora l'argomento è la seta perché mi è stato chiesto che che particolarità manifesta la seta tu sa e la seta è una bella argomentone e qua ne avete un po di tipi non li ho raccolti tutti perché non li ho trovati tutti santo cielo però questa è una matassina tra l'altro allora la seta la seta nasce da un bruco la seta da baco da gelso quello che mangia il gelso quindi beato lui tutte quelle belle bacche ma mangia le foglie non mangia quelle bacche che sembrano more buone quanto le more meno aspre delle more quando sono mature belle polpose c'è il gelso bianco il gelso nero rosso ma non so se ci sono molti altri colori o quelli conosco buoni la prima cosa che ho mangiato appena arrivata giovinazzo mi ricordo secoli fa una cinque giorni tostissima di festeggiamenti la patrona c'era una madonna mi ricordo era una festa religiosa importantissima per giovinazzo ospiti eravamo ospiti sono con la famiglia o mamma mia io anche lì mia ma mi ucciso dopo al secondo giorno perché ritmi sono veglia completamente diversi cene alle due di notte io e camilla capo tecnico al secondo meno male che un parente lo avevo già raccontato un parente di questi signori era primario mi ricordo sia all'ospedale di bario di prindisi e gastroenterologo già rimessa in piedi con dei fermenti monodose con la capsuletta da schiacciare mille miliardi stramiliardi di bifidi buffi di bu 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 e poi camilla l'opera anche delle pastiglie non ce l'ha verso di fargli inghiottire come la capivo poverina eravamo a casta a castellana grotte abbiamo pranzato lì anche lì per trovare con noi riuscivamo a campare pensate un po che adesso non mangio glutine l'unica cosa che riuscivo a mangiare quei giorni per la nausea e tutto un po era il pane che roba meravigliosa in quel momento è stata l'unica cosa che veramente anche camilla abbiamo preso gli gnocchi in bianco poi gli gnocchi che io pensai turisti che capitano certi locali di gnocchi sapete quelli pre confezionati che si sente in bocca che non è uno gnocco fatto con le patate la farina se vuoi anche l'ovetto perché tanti mettono l'ovetto tantino mia nonna non lo usava e mi sa la mia bisnonna invece si ce lo metteva l'uovo vabbè comunque terribile c'è stato verso di mangiare niente ma niente non riuscivamo a reggere più niente parte primi due giorni poi ce n'era le due svegliano si capiva volevamo andare al mare pomar de testa però appena arrivati a giovinazzo una gelateria niente una piazza deserto dei tartari tutti appennichellare noi siamo arrivati da roma che c'è un altro pianeta è restato era agosto e una gelateria stranamente aperta nessuna libreria non ho trovato io cercavo indovinate un po perché me l'ho dimenticata a casa qualcosa da leggere qualcosa da leggere mi ricordo all'epoca parliamo di tantissimi anni fa e la bimba era piccola mi ricordo se già vivevamo a roma o stavamo ancora facendo avanti indietro non me lo ricordo comunque una fatica per trovare qualcosa da leggere e non trovai un gomitolo non trovai un uncinetto zero che zero perché quando andavo in giro volevo l'uncinetto mi preparo i pacchetti mi preparo ricordarci tutto tutto di uno di chi sta e kill che l'altra ancora vabbè arriva un gatto stiamo che mi non abbai che lei non vede però sente il fruscio dei passi dei felini ma anche dei cani e poi abbaglia speriamo in bene perché ha già rizzato le orecchie e distano tre tre metri quattro lei da lui è il nostro dirimpettaio c'è di quelle va un fiuto stacana che ve lo raccomando vabbè insomma torno alla piazza di giovinazzo entriamo in gelateria stavamo ancora benissimo e cosa scoviamo il gelato la granita la granita di gels che cosa non avevo mai assaggiato e mi racconta poi c'era una coppa con i frutti interi io camilla ci siamo tuffate proprio tuffi e mangiamo quella cosa da lì ovviamente con la panna che no e che meraviglia una coppa mega galattica quello fu l'ultimo cibo era mattina mi pare mattina pomeriggio ma no ma penso che fosse stata mattina un viaggio lungo tarda mattina insomma noi fino alla cena non si mise in bocca nient'altro già una fame orpa ma eravamo ospiti c'è andato la dependance ma che roba ma poi nessuno che mi aveva avvisato sugli usi e costumi quindi bisognava cambiarsi tutte le sere ma in il toilette da sera ragazzi cinque sere che non avevo niente da fare io quando parto per le vacanze ho una roba poi se penso di fare il mare c'ho tanti c'è i costumi c'è i sandaletti c'ho le maschere non importo mille vestiti soprattutto meno male che avevo un costume di avevo comprato mia sorella vendeva intimo un costume di valentino rosso plissé con gli ipocampi dorati era fatto tipo body per fortuna una gonellina mi sono inventata di quelle mise tra i parei hanno dati tra tra che poi cosa con gli sbellucci ma quello è stato un caso non c'avevo niente mamma mia mamma mia e poi le bimbe tutte le sere elegantissime ma di quelle poi di quelle un'eleganza di gusto ecco non pacchiana è per carta io ho scoperto una un'eleganza in puglia tanto di cappello all'epoca visto delle signore di tutte le età la sera parte queste illumina luminarie noi non c'eravamo abituate perché aspetta all'epoca quando era piccola la bimba luminarie per lo più era monocromatiche poi difficile che per le feste del paese più mi ricordo le lucine modeste mamma mia un tripudio di luci di colori di paramenti e l'allera la sfilata delle vergini sono trovate tutte così tanti cavalli una processione lunghissima e in questa piazza bellissima che la sera la colma di gente da voler vedere da adesso e noi eravamo in una casa che aveva proprio di fronte l'arrivo una casa patrizia lì del posto mi ha diviso un palazzo storico bello bello noi eravamo distrutte proprio distrutte siamo arrivate a casa alla sera con quella fame mangiare di notte poi assonnate perché io non ho mai fatto tardi di notte all'epoca ora sì quindi eravamo caposta anche morte affamate accaldate a me il caldo mi ammazza eppure pensa di andare in sicilia ma dove a erice erice vetta 800 metri ma chi sa meglio di loro mi vedono le egadi e ci hanno il fresco e poi tutti quei bagli quelle cose meravigliose io amo la sicilia capito a me amo la sicilia sarà capito ora lo capirete vabbè fatto sta insomma lì torniamo alla seta dopo 12 minuti e 54 secondi 56 la seta allora questo la seta non è altro che tutto quel popò di filo sputato da un baco e beh rigurgitato emesso da delle ghiandole che si trova dentro la bocca fuori dalla bocca non me lo ricordo però emette questa cosa è un binario sono attaccati due fili paralleli usciti fuori insomma e iniziano a crearsi questo bozzolo il bozzolo e questo filo la seta non inizia subito lungo e continuo e allora io ne ho sentite di tutte di tutte le interpretazioni da parte di chi produce e quindi da parte di chi alleva o ha allevato bacchi da gelso però ognuno mi hanno detto al suo modo i libri dicono un altro io dico bisognerebbe saper fare tutto perché almeno abbiamo le informazioni certe comunque mi mi fu insegnato che il baco non inizia subito a sputacchiare questo fili questi fili paralleli lunghi e regolari immediatamente no inizia a fare tutto un po e poi inizia questo filo lungo e continuo questo bozzolo è lanuginoso quindi non è non vedete una cosa liscia e lucida come questa un bubolo che dove si avverte un centro consistente tutto bello l'annosetto all'esterno vedete un po come una cosa così non sono non così è però ecco una roba e quella peluria interna e pare anche cioè esterne pare anche interna quindi intorno al bruco mentre si sta mentre cerca di trasformarsi povero cristine in farfalla in crisalide si chiama cascame perché perché si sta che casca non viene gettato viene siccome allora con il cascame si crea la buret quindi si si recuperano queste fibre si cardano e si filano e questa è la buret vedete è sempre seta chimicamente credo che sia sempre la stessa cosa ora ce l'andiamo a leggere sul libro magari lo divido in due questo vocale allora questo che è un colore simile a questo questa è una seta shantung e viene proprio questa zona mi pare che sia cinese però non vorrei sbagliare non me lo ricordo già più una volta ero più preparata oggi non ho preparato alla lezione l'ho solo radunata questa è una seta buretta la seta buretta andava tantissimo negli anni 60 e cosa facevano allora ci fu un periodo dove negli anni 60 vennero confezionati dei taglierini sapete quelli bei taglierini con le gonnine tubo con lo spacchetto dietro a cavallato e queste giacchine con la vitina un po alta e queste giacche un po quadratine un po scostate dal corpo un po boxy diremmo adesso un po scostate così col ginomanica è perfetto e con i bottoni grossi davanti e il collettino un po stondatino o se con la punta comunque fa proprio la forma di colletto non un largo un colletto non puoi spiegarvi tecnicamente mia figlia ve lo saprebbe dire io non me lo ricordo e se l'ho letto appunto l'ho scordato ebbene quei taglierini un po ci verrebbe da dire tweed ma non è l'effetto tweed un po sale e pepe ma non perché siano stati bianchi e neri perché avevano un leggero contrasto un colore di fondo un po melange con questi puntini colorati anche essi però in contrasto e anche foderati ovviamente andava tutto foderato negli anni sessanta fino agli anni cinquanta poi sulle sottovesti a secondo dell'ampiezza della gonna insomma vabbè e questi taglierini a parte col cotone e cambre alcuni più modesti venivano confezionati con una seta da burette questa che sembra quasi una lana questa è una seta burette italiana vedete com'è la vedete? questi peletti, queste inclusioni ricorda tantissimo il tweed è uno stoppino che si contorce tantissimo se provate a lavorare la maglia aveva tutto di traverso io avevo provato, avevo fatto un top mi sono trovata un rombo in mano invece che un rettangolo e l'avevo provata anche con un filo di lino proprio per i fatti su andava a telaio invece l'ho usata tranquillamente si è comportata bene a parte fare questi giri boboli da una navetta che poi a volte si attorcigliano talmente tanti quando la si prepara o quando si ha in fase di lancio, di inserimento e abbiamo il filo un po' allo sbando, un po' lunghetto sannoda, una tortura di scatole, un peggio di tempo ecco vedete com'è, com'è sia torciglia questa è una seta burette che nasce dal cascame del bozzolo i bacchi hanno dei nomi a secondo della razza, della tipologia io dico razza, poi se c'è un termine più specifico qualcuno se lo trovi, se lo cerchi, lo scriva, lo aggiunga e bombix qualcosa poi magari vediamo qua sul manuale che cosa ci dice, sul dizionario dalla seta poi si ricava un'ulteriore fibra quella ancora un po' più lunghetta interna già quella ha un altro nome e ha un altro valore perché? perché è ancora irregolare perché è ancora corta perché richiede procedimenti e trattamenti leggermente diversi e permette di ottenere filati e stoffe non lucidissime perché era quello che veniva chiesto alla seta non compattissime e non con la stessa robustezza poi si arriva a questo filo lungo e continuo io mi ricordo sciapè, tratta, spelaia, buret poi c'è la la bullberry 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 birribili bullribu poi ve la cerco e che è quella lucidissima bullberry è quella super mega wow che comunque nasce dallo stesso vacco dovrebbe corrispondere al filo lunghissimo anche chilometri c'è che in alcuni testi trovi solo 800 metri alcuni testi ti dicono chilometri vabbè quello che è è un filo molto lungo ed è quello che spesso viene utilizzato come sostegno per il super kid se non è la seta quel genere di seta questo filo sottilissimo che dà robustezza e avviluppa intorno a sé intorno alla quale insomma si filano si torcono si attorcigliano le fibre di super kid mohair la primatosa del capretto mohair il super kid è il nylon quindi la seta quel genere di seta è stato spesso sostituita dal nylon perché con il nylon si riesce a creare un filo lungo liscio corrente senza interruzioni come prima del nylon c'era solo la seta che la troviamo qua eccola qua la seta super mega wow l'abbiamo anche questo rocchetto che vi avevo già mostrato vedete è un rocchetto marca faro cucerini cantoni cos milano la seta su rocchetti vendendosi a misura e non a peso viene preparata in tinta leggerissima conservando in tal modo il filo al filo la sua lucentezza e forza questo è un cimelio è una roba meravigliosa e qui lo abbiamo molto più intorcinato vedete più grosso quello è un filo meraviglioso io non so se da ricamo o da cucito però vedete pura seta non so se si mette a fuoco non ci vedo un piffero aspettate perché c'è il riflesso eccolo pura seta questa è una pura seta è un cordoncino pura seta che si può utilizzare per varie varie cose quindi un ricamo quindi per collane per monili shantung lo shantung non è altro che la seta la seta tu sa cioè lo shantung lo shantung viene da là nasce da bachi selvatici quindi sono diversi rispetto ai bachi che producono la mulberry e sono caratteristici i filati che nascono dai recuperi di quei bozzoli sfarfallati quindi forati dai quali i bachi si sono potuti liberare da quel coso lì da quella prigione da quella tana e sfarfallano altrove e è caratteristico lo shantung per chi ha praticato cucito o chi compra ragionando conoscendo o scuri usando su quello che acquista forma quella nervatura anche nei più sottili quella nervatura con nodini un po' croccante lucido e opaco è bellissimo lo shantung è la seta che io preferisco questo è un rocchetto di shantung non so come farvi leggere shantung 250 metri poi non si legge scusate comunque sono 250 metri di seta shantung che ho acquistato in un sito francese conosciuto per la lana dove acquistavo la mia la mia lana islandese le lopi l'acquistavo lì questa è una seta tu sa quindi sempre da bacco sempre da bacchi selvaggi più che selvaggi selvaggi che si nutrono di altre cose rispetto al gelso ha una controluce si nota una certa peluria ha il cuore luminoso riflette il colore in un modo affascinante questo è un rimasullio di seta tussa tinta botanicamente bellissima poi quando la troverò perché è ben nascosta e protetta la mia scellina canzone romantica che la trovate sulla mia pagina raverly che non mi ricordo se è lorenza di simone di simone lorenza tutto attaccato io non ci accedo più però la trovate canzone romantica è nata da una matassina di pochi grammi di questa bellissima seta tussa tinta botanicamente cambia molto quella mano di questa seta se trovate uno stoppino o un filato a più capi è morbido è lanoso è proprio lanoso non so come farvelo vedere contro luce io sono orba però ecco ha un aspetto lanoso gli sciali vengono bellissimi poi come avete già potuto conoscere chi già pratica il canale il canao chi ha praticato il canao ecco seta italiana tabacco da gelso ondulata e binario prodotti italiani questa invece è una roba meravigliosa che ogni volta che la cerco mi scompare oggi mi serviva si è mostrata si vede che oggi le andava all'argomento vedete com'è come torta ecco io qua potrei anche recuperarlo perché i piedetti si annodano questo è il suo colore naturale è una seta che non è stata sgommata ha il suo colore oro antico oro sbiadito è tortissima vedete qui si sono legati i peletti ma si può aprire presenta delle inclusioni è la nosa è rigidina dove è torta mi viene dalla patagonia questa è una seta allora mi può spiegato che sia il cascame esterno che la prima i primi centimetri di bava anche decimetri di bava prima di dare quel bel filato lungo e sottile ci sono molti ricavi e recuperi dal bozzolo della seta e questo è il suo colore naturale così senza altri trattamenti di acque diverse saponate o meno filata a mano ovviamente ha un cuore guardate guardate dentro guardate guardate che bello quasi si ossida poi all'esterno è una roba bellissima bella bella al tatto ma cosa cosa ci ho fatto lei mi ha aiutato ne avevo una matassa che non ricordo quanto l'ho pagata e non lo voglio ricordare non lo voglio proprio ricordare ma ho fatto benissimo perché altrimenti non l'avreste vista in molti questa cosa qua e quindi è una cosa che uso durante i miei incontri di chiacchiera sui filati sulle tecniche è bella da toccare ha di tutto dentro ci sono pezzi di bozzolo anche e non so come sia stata fatta in realtà più di tanto non mi è stato raccontato però so che c'è l'unione sia del cascame vero e proprio che di questi primi decimetri di seta prodotti dal baco e ci feci mi aiutò insomma nella realizzazione di uno scialle ritratto una dedica bosco e pietra e l'albero che canta che cambia scusatemi il titolo credo che lo troviate anche lui sul mio Raverly che è uno schaller a telaio dove ho utilizzato un amerino bellissima irregolare fiammata bellissima che ricorda la pietra e con questo filato appoggiato su una sorta di imbastitura che creai insomma creai un disegno con un altro filato di scarto e gli spilli e poi creai con questo filato e l'ago e una seta sottile sapete che non me lo ricordo con che cosa o con un rocchetto di questi non me lo ricordo sul tessuto una volta tolto dal telaio quindi tagliato l'ordito insomma rifinito e tutto creai su un lato questo albero stilizzato col tronco le radici che si allargano più in larghezza che in profondità perché per problemi di spazio e di come si può dire di equilibri ecco rispetto alle dimensioni dello scialle volevo che si vedesse una volta indossato con il scul davanti ecco non che si diventasse un disegno sghembo e irriconoscibile e sono quegli scialli che poi in casa si possono godere come arazzi buttati sul letto su un addorno o su un divano o appesi in qualche modo con bella grazia buona e bella grazia ad una parete la seta adesso interrompo qua questo vocale e vi leggo quanto magari commentandolo quanto riporta questo dizionario Zanichelli manuale di tecnologia tessile fibre tessili filatura tessitura tessuti vari taglio confezione tintura stampa finitura analisi e controlli questa è la presentazione del manuale a poi chissà fra quanto l'an Grazie.